Che avventura anche oggi che ci aspetta! Si parte super carichi, super in forma, super assonnati Ehi, ciao ragazzi, sono il Ronino del futuro, quello che sta montando il video Oggi vi porto più avanti, non mi faccio vedere tutte le 20 le partite Perché diventerebbe secondo me un po' troppo pesante, le partite un po' troppo riassunte Quindi per lasciarvi il video un po' leggero vi lascio le ultime 10 partite più o meno Partiamo dalla decima diciamo Qua sotto vi metto qualche gol fatto nelle prime partite giusto per Io vi ricordo un bel like di supporto ragazzi e un commentino Io sto provando in tutti i modi a farvi avere questi video della VL perché ci tengo Perché mi diverto a giocarla E adesso vi lascio il video per contestualizzare il nervosismo iniziale Arrivavo da una sconfitta per 1-0 abbastanza brutta e deprimente Poi dopo mi riprenderò con l'entusiasmo Buona visione, ciao! Ma vediamo di driftarle tutte per il nervoso eh È gol, è gol No ma sono tiltatissimo raga sto facendo di quei buchi con la testa a caso E sta palla era normale che... è gol Incredibile raga come sto prendendo gol La testa te ho la testa che sono lunghe 20 Questo è un passaggio per Hakimi, non l'avete visto quanto era bello sto passaggio per Hakimi Dai e totò Dai e regà, dai su, su cazzo Mi meritavo più di perdere questa che quella di prima Non so perché mi sta largo Non dovrebbe starmi lì largo così Bravo Neymar, bellissimo gol Bellissimo gol, bellissimo gol Dai e Kilian Dai e... dove cazzo andiamo qua? Porca vacca Quanto è bello questo Holy shit Questo era apparito veramente molto bene raga come avversario eh Poi abbiamo fatto sti golletti qua E la madonna Che biliardata Neymar Vabbè che l'ha driftata lui Però... Vabbè Raga prima non entrava da una d'Allison manco a piangere Adesso entrando a metà campo in pallonetto lì preciso in buca d'angolo Poi si fa gli autogol al novantesimo capirai 9-1 come il parziale della VL effettivamente Allora oh cazzo Per la decima Sta affassato il portiere Vabbè zi sei il mio uomo Ma io che vedevo di liam Sanets 2002 grazie mille bro Un bacino sul naso anche per te Tedesco, turco, inglese raga Non c'è unitas che me le sta giftando Me le giftano tutti gli stranieri Thank you so much Figarezza Messi Vinicius Un cuncu freddo Porca puttana Dai siamo oltre la metà ragazzi Ma quello sta spostando il portiere Eh no non per giftarmela Vabbè questo qua perché è uber tryharder Mi sta spostando il portiere È uno che ne sa Va fa il fuorigioco Sì tutte le tattiche No zi ma la vuoi buggare così Questo è mega inturbantato ragazzi È un livello forse mai visto Fino ad ora Godo A culo A culo Ma sono entrato Devo stare attento Questo qua è bravo davanti Se mi parte bene davanti Mi fa male Orca da tirata fuori Eh vabbè ma sono anche sfigato Una certa eh Fuorigioco Ma come Totò in fuorigioco Quante non me ne stanno entrando Regà come Dio comanda Che questo è da chiudere Questa partita Quanto l'ho fatto bello Player lockato bene Vamos Livello 3 ce l'abbiamo già Una win Al livello 2 Che sì non mi sta dispiacendo eh Porca puttana Quanti colori Quanto è guloso quel Totò Sì fa il suo eh Fa il suo Però perché ce l'ho non scambiabile Non spenderei mai Un milione Per farmelo Cordoba molto valido Però ragazzi Sono tutti hero Costa tanto per la Rarità della carta Anche eh Oltre che per la bravura Vai Totò No Totò Non me la devi sbagliare Con il 90 Di finalizzazione Che c'hai Belli Belli con la testa Belli con la testa Cazzo Questo qua è molto bravo Si muove bene Ho dovuto farlo girare Un po' da una parte All'altra Se no non trovavo Lo spazio per entrare Che erano tutti lì Porca vacca Bello Sì Sì cazzo Palo Parata palo Questo è bello Questo è bello ragazzi Questo è bello Cazzo Nello stretto Gli ho fatto la finta Di tiro interrotta Go Che Ronaldo Se pareva di testa Ragazzi è Imprendibile Oh no Finita arbitro Oddio Ma che stavo vedendo Raga Utdio Ho avuto paurissima Giuro Stavo per trollarla Come mai in vita mia Vi giuro Cafu Vamos raga For the 13 Ah Quite fallino lì eh Qua l'ho già capito Che è una parità Non l'ha fatto apposta Questo raga L'ha sbagliato Proprio sbagliato Lì Si però mi secchi Così totò Belli Vamos Meno 3 win Sto pezzando Fa caldo qua dentro Noi continuiamo a tirare dritti Questo con Fekir e Vinicio Sono stato avanti Dai raga Go Me l'ha fatto bello Incredibilmente bello Vai bro Non è vero Oh che errore Che ho fatto Rigore regalato Va bene così Forse il karma Stiamo attenti Alle sue ripartenze Randomiche Perché per il resto Potevo fargli già Tre gola questo Non so come cazzo Stia facendo A reggermi Dietro Dai Così si fa Bravo Ney No Sapevo Sapevo Che era normale Prendere questo gol Finita arbitro Va bene Difficilotta 16-1 mi piacerebbe Perché vuol dire Che finiamo in fretta Dude Chi importa Questa è buona però Ma ha spaffato il porto No Z Quanto mi fa No Me la manda rigiocare Ho cercato un'occasione gigante Ragazzi Su quel gol sbagliato Mamma Non ce ne stiamo rendendo conto Ma questo gol sbagliato Di Mbappé Mamma mia Quanto male mi fa Era una vittoria easy Quadra troppo umile Per averla così contro Bravo Chigliano Bravo Mamma mia Però Chigliano Ragazzi è di un altro pianeta Fallo zi Let's go Dai 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 che siamo lì Una Fu 4 Se finisco la VL in 3 ore È il record mondiale Comunque raga Ovviamente se c'è Mbappé È più facile Ma penso che sia l'unico Che veramente Fa tanto la differenza È che gli ero passato Per un pelo Messi Messi Ah finalmente Si sente il tiro di Messi Porco cane Non mi ha fatto benissimo Sta VL il Messi Dai Devo mettergli secondo Sigillo Bello Kylian Let's go ragazzi Allora ragazzi Calma Che è una partita Che si può giocare ancora meglio Di come la stiamo gestendo Bellissimo Bellissimo Bravi Bravi ragazzi Stasettimana Stasettimana Una squadra Che mi è veramente Piaciuta Da usare Quel che si lì Totò di Natale Cordoba Innesti Molto buoni Ho perso un sacco di credit A far sto movimento Ma molto belli Dovesse uscire qualche giocatore esotico Lo proviamo Ecco Una volta che ho visto che Il livello che riusciamo sempre a fare È questo Contate che c'ho due milioni fermi Cioè c'ho sta squadra E due milioni fermi Volendo potevo anche farla più forte La squadra Al momento mi piace così E signori Another 16-1 Va bene GG Oggi molto puliti Sì regalo le ultime tre raga Le regalo Le regalo 3 ore E 5 minuti Per fare 16 win Livello 1 Apriamo sti pick E sto pacchettino magico Gli if Li teniamo sempre mercoledì Perché ne ho già aperti Due pacchi Mercoledì scorso Trovato il più forte Era Correa Allora raga Se trovo Marchignos O Vinicius Sono 5 sub regalate Non succede Ma se succede Vamos Vabbè dai La mia prima sculata Nei rossi Ci posso stare Dai Eh che cazzo A saperlo Prendevo Correa Marchignos Non avrebbe upgradeato Il mio Ma Vinicius Ora devo capire Come e dove Metterlo Nella mia squadra 100.000 crediti Tra l'altro Golosissimi Abbiamo 2 milioni Ancora da buttare Non so neanche che cazzo Farmene Vorrei pigliare Nacom Prima o poi Ma va bene Questi li teniamo Mercoledì Ragazzi Ultimate pack If Delort Trolled Vabbè Sono 10k Guadagnati Vabbè Aguero E Trolled Alla grande Sti qua Rimarranno qua Perché il culo Cade una volta sola Grazie Giastron Per queste sub regalate Numero 1 Un bacione Fate i bravi Boys E grazie A tutti quanti Ciao Aglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti